Il consigliere delegato alla sanità del comune di San San Antonio Citerà insieme al presidente dell'associazione Sapienza Pasquale Citerà hanno donato nella giornata di ieri all'ospedale Luigi Curto di Pollo un ventilatore polmonare e due saturimetri. L'apparecchiatura medica è stata consegnata alla presenza del direttore sanitario dell'ospedale Luigi Mandia, al dirigente del reparto di rianimazione il dottore Luigi De Angelis e al caposala del pronto soccorso Daniele Graziano. Inoltre il maestro Pino Pinto ha con la sua musica voluto salutare personale ed agenti dell'ospedale di Polla. Voglio ringraziare tutto il popolo di Sansa per la sensibilità che ha avuto in questa particolare situazione della nostra vita, ha sottolineato il consigliere Citerà. Tutti i sansesi nel mondo, ma in generale tutti coloro che hanno creduto e contribuito a questa raccolta fondi.